bentornati amici oggi andiamo a proseguire con la nostra indagine dei filtri e siamo arrivati a cross hatch che in italiano mi pare che sia ombra tratteggiata andiamo a selezionarlo lo portiamo a zero anche se in questo caso non so se avremo la foto originale a zero infatti abbiamo un qualcosa di un pochino più confuso andiamo a ingrandire così ci rendiamo conto di che cosa sta succedendo nel momento in cui aumentiamo la lunghezza del tratto vediamo che viene aggiunta una textura x che va a creare un'ombrettina in effetti quindi ombra tratteggiata potrebbe anche essere un nome azzeccato cosa che non si può dire per certi altri filtri se ne aumentiamo la nitidezza diventa ovviamente più netto questo tratto che siamo andati a introdurre e se ne aumentiamo la forza diventa veramente molto carico è un po' come essere andati ad aggiungere la texture di quello che potrebbe essere uno zerbino o una trama di vimini una cosa del genere può essere un effetto interessante se dosato ovviamente siamo sempre nell'ambito della distruzione parziale della foto perché qui non abbiamo più la foto originale sotto ma abbiamo proprio l'inserimento di una trama abbastanza importante è bene sapere che questo effetto esiste perché può essere applicato in unione ad altri effetti per andare a creare effetti comunque interessanti ecco